dopo interminabili ore di studio a cercare quello che mi era successo di fracchia dai per la via lunga estate di mezza via di mezza via e in quel preciso istante trovai grande effigie di Luca come umano lei grande effigie di Luca bene ho decifrato le iscrizioni dicono lascia tutto ciò che puoi lasciare e metti la terza a posto la quarta fracchia sono il conte Dracula improvvisamente mi sto trasformando in vampiro fracchia